Il sottoscritto nel testo ha scritto che protestare è un suo diritto quindi non resta zitto, mi viene distinto parlarti di tale argomento non voglio lo stoccaggio del gas a San Benedetto più rispetto per noi e per i nostri territori salviamo noi stessi e preveniamo i tumori restiamo soli tranquillamente problemi di salute con le cause del gas per intascare le valute basta dittature, siamo noi le uniche cure dal gas, proteggiamo le generazioni future cisterne di metano sotto terra, immaginario sceno, terremoto, un'esplosione, la città è il Grand Canyon non siamo struzzi con la testa sotto il suolo sottovalutando le cisterne di gas nel sottosuolo non punto il dito, metto i punti sulle i, gridiamo in coro no al gas, I love SBT